L'ombra dei talebani a Kabul arriva fino a Vicenza, una bandiera della città a mezzasta sventola in Piazza dei Signori. Questo mentre tutti gli sforzi si stanno concentrando per salvare innanzitutto le donne che negli ultimi anni si erano impegnate per creare un'Afghanistan migliore di quello che si profila in futuro. Dobbiamo aiutare queste donne che rischiano di entrare nel libro nero dei talebani. Per questa ragione ho deciso di aiutarne due, almeno due ma non solo. Si tratta di Zafira, sorella di un ragazzo a Med che a Venezia ha diversi esercizi commerciali e a Tefa, un'avvocata, una giornalista, un'attivista per i diritti civili e delle donne. Vi sto aiutando insieme ad altri colleghi, insieme al Ministero della Difesa, insieme a tutto il team della militare e anche della diplomazia. Dobbiamo salvarle. E l'europarlamentare Vicentina Alessandra Moretti a seguire l'arrivo in Italia di profughi afghani come Zahara Hamadi, che ha raggiunto la zona militare dell'aeroporto di Kabul e in queste ore dovrebbe imbarcarsi su un aereo per l'Italia. Intanto a Vicenza il sindaco Francesco Rucco esprime la solidarietà della città al popolo afgano e rivolge un pensiero ai soldati che hanno perso la vita per riportare la democrazia in Afghanistan, come Matteo Miotto, l'alpino vicentino morto combattendo dieci anni fa. Abbiamo raccolto la proposta di alcuni sindaci di abbassare a mezz'asta le nostre bandiere. Questo è un segno di vicinanza al popolo afgano per quello che sta accadendo in queste ore e in particolare il ricordo di quei soldati che hanno lasciato la vita, hanno perso la vita per riportare la democrazia in questo paese.